Onorevole Mucci, prego. Grazie Presidente. Allora, io farò qualche critica a spot, cercherò di entrare più nel dettaglio di alcuni argomenti. Prima di tutto, il bonus di 80 euro alle donne, alle madri. Sostanzialmente, secondo noi, questa è una misura semplicemente spot, perché non risolve il problema che sta alla base del gender gap e che comunque porta le donne ad allontanarsi dal posto di lavoro nel momento in cui diventano mamme. Servirebbe più investire tali risorse in servizi, prendendo come modello anche stati in cui comunque si fa del sostegno alla famiglia un punto cardine e che si fa non soltanto del sostegno alle donne, ma anche in età comunque scolare dei ragazzi, un punto cardine dell'economia. Di fatto si crea anche un'economia dietro al sostegno alle famiglie e penso a quelle donne che ricevono assistenza direttamente a casa e che comunque si parla di figure professionali che hanno comunque dei redditi, percepiscono degli stipendi e si crea quindi un'economia dietro al sostegno alle famiglie. Investire in un quantitativo comunque risibile di aiuti alle famiglie non risolve il problema alla base, perché se una donna non è nelle condizioni di poter e lavorare e accudire i figli è chiaro che si crea una situazione in cui si preferisce piuttosto lasciare lavoro a fronte di stipendi magari bassi, piuttosto che lasciare a casa i propri figli. E questa è una situazione che noi non dobbiamo permettere, perché la donna comunque in questa società deve essere vista soprattutto come una risorsa anche per le caratteristiche che la differenziano dall'uomo e che quindi possono dare un valore aggiunto al lavoro stesso. Gli 80 euro invece dal lato dei dipendenti, noi ci chiediamo come mai vengono sempre lasciati da parte i lavoratori autonomi e qui si apre tutta la partita dei lavoratori autonomi, perché Ministro noi siamo molto critici rispetto alle modifiche apportate al regime dei minimi. Senza entrare troppo nel dettaglio, la diversificazione per i codici ATECO comunque vanno molto a svantaggio di coloro che fanno servizi anche più innovativi e che attualmente nel panorama economico si stanno sviluppando molto, penso ai consulenti informatici, penso ai grafici, penso ai pubblicitari, che devono rimanere al di sotto di un limite di 15.000 euro che è veramente ridicolo. Si parla di tutte figure che usciranno da regime dei minimi e andranno in un regime ordinario che comunque porta con sé adempimenti molto più pesanti e che quindi rendono anche economicamente meno sostenibile la figura stessa. Per cui noi vi chiediamo veramente di rimettere le mani su queste tabelle che comunque svantaggiano molto questi lavoratori che ci mettono il proprio impegno e sono comunque responsabili in prima persona di quello che è il loro lavoro. Comunque rischiando giorno per giorno e avendo a che fare in un mondo comunque sempre più difficile in cui ti devi guadagnare il cliente. Siamo anche molto critici sul regime forfettizzato, perché noi non vorremmo che questo vada a incentivare il nero, perché se io non sono più incentivato a richiedere fattura nel momento in cui chiedo mi devo fornire di materiali o risorse, è chiaro che noi stiamo mettendo mani anche qui invece di controllare, cercare un'emersione del nero, noi lo stiamo comunque incentivando, tra virgolette. Per cui siamo molto critici su questa modifica a regime dei minimi che ci sembra comunque molto limitativa da una parte e dall'altra parte ha vari profili problematici. Per quanto riguarda poi in ultimo la decontribuzione del costo del lavoro, penso all'IRAP e penso anche a quelle zone in cui, visto che con l'IRAP voi avete puntato soprattutto alla decontribuzione sul tempo indeterminato, io penso a tutti i lavori di tipo stagionale che soprattutto nelle coste o anche laddove c'è un turismo, esiste un turismo che però è più stagionale, vengono chiaramente, non vengono incentivati da questa misura, quindi sarebbe bene magari scegliere alcune misure ma portarle a fondo, in fondo definitivamente per poter davvero dare un respiro a questa economia, perché comunque siamo in un momento particolare e difficile e bisogna trovare delle strategie e dei metodi per poter uscire da questa crisi che è diventata sistemica sostanzialmente. Per quanto riguarda gli sgravi contributivi, quindi per assunzione a tempo determinato, noi siamo anche preoccupati perché questa misura si deve inserire anche nella misura che poi verrà delineata dai decreti attuativi del Job Act, perché se da una parte abbiamo il decreto Poletti, il recente decreto Poletti, questa misura va armonizzata con questi incentivi sui contratti che poi saranno i contratti a tutte le crescenti e deve diventare sempre più svantaggioso licenziare rispetto allo sgravo che io ottengo in termini di decontribuzione. Quindi noi sottoponiamo questo problema, cioè per un datore di lavoro deve essere comunque più pesante licenziare rispetto allo sgravio, altrimenti ci troveremo in una condizione in cui io ottengo uno sgravio in funzione di un'assunzione, ma dall'altra parte entro i tre anni licenzio, perché mi conviene cambiare lavoratore. E questo non deve accadere, visto che il Job Act è una legge deloghe, visto che ancora non sappiamo nel dettaglio come verrà attuata, noi vi sottoponiamo questo problema. Grazie. Grazie.